È notizia di qualche giorno fa, sono stato accusato di censura perché semplicemente per aver chiesto a una tizia che non era possibile spendere 700 mila euro in quattro giorni per fare una sorta di carnevalata di sinistra dove era assolutamente assente il pluralismo. Naturalmente Repubblica, i titoloni, il sindaco censore, non vuole Saviano, non vuole Zero Calcari, sì in realtà non ce li voglio all'Aquila perché l'Aquila è una città plurale, l'Aquila è una città nobile, è una città aristocratica, è una città bella e è una città che non merita questo genere di cose.